Mi dispiace un po', vi dico la verità, questo è San Bernardino da Siena, che era a doppia la dose. Noi, non lo so se lo perdoniamo il nostro Papa Nicolo V che l'ha fatto santo, va bene, però San Bernardino era stato uno straordinario predicatore, riempiva le piazze, riempiva i paesi, e però è stato di nuovo un grande propugnatore delle cacce alle streghe, alle donne, e dice però dico che laddove se ne può trovare una, una che sia incantatrice o bagliata o strega, fate che siano tutte messe in esterminio in modo che se ne perdi il sede, che io vi prometto che se non se ne fa un po' di sacrificio a Dio, voi vedrete che crescerà. Quindi terribili le sue parole e il suo accadimento, credo che ci avessi un po' con le donne.